Ciao cari amici e benvenuti in un nuovo episodio. Oggi vedremo l'intervento di Orban all'Europarlamento che descrive la situazione dell'avanzamento della Russia, dell'esercito russo, inesorabile e Orban invita tutti quanti a riflettere, a trovare una soluzione pacifica, un compromesso per cercare finalmente di porre fine a questa assurda guerra. Ci vediamo dopo il video per i commenti finali. Un detto inglese che è vecchio di cent'anni, se vogliamo vincere bisogna innanzitutto che ci sia il coraggio necessario per dimostrare che stiamo per perdere. Stiamo effettivamente perdendo sul fronte l'Ucraino e voi vi comportate come se non fosse così e la realtà è questa e anche grazie alla Presidente della Commissione europea. L'Unione europea in modo sconsiderato sulla base di dati sbagliati e con una strategia sbagliata si è intervenuta in questa guerra. Se vogliamo vincere dobbiamo cambiare questa strategia che è perdente. Affinché l'Ucraina non perda dobbiamo cambiare strategia e io propongo che voi riflettiate su questo. In qualsiasi guerra ci devono essere delle attività diplomatiche, ci deve essere comunicazione con delle relazioni dirette o indirette. Ebbene, se trascuriamo questo, ci sprofondiamo sempre di più nella guerra, in una situazione sempre più disperata, ci saranno sempre più morti. Io propongo che vi schieriate piuttosto al fianco della pace e c'è stato il fuoco di una strategia diplomatica.